Quarto protocollo per l'occhialeria firmato d'intesa tra Regione, Confindustria, Belluno e Dolomiti e parti sindacali alla loro seconda partecipazione. Obiettivo comune è la formazione dei giovani per un settore di assoluta eccellenza a livello mondiale. L'importanza è strategica per il mondo dell'occhialeria, tutte le competenze, il sindacato, le imprese che si mettono insieme a cert'ottica per un progetto unico, le competenze e la formazione. Lavoro di qualità per mantenere un primato indiscusso e per rendere attrattivo per i giovani un territorio che avrà, come è stato ricordato dall'assessore regionale al lavoro, nelle Olimpiadi 2026 una vetrina che però va vissuta già oggi. Il contributo dell'occhialeria per l'Italia parla bellunese, parla di questo territorio ed è uno dei settori del manifatturiero di maggiore valore. Il tema delle competenze diventa quindi strategico, le competenze vuol dire investire sulla forza lavoro potenziale, i giovani, quella che c'è dentro le aziende, gli occupati, coloro che escono magari da un'azienda per entrare in un'altra, creando quindi anche un ecosistema territoriale. Siamo a Longarone, si parla di occhiali impossibile non fare almeno un accenno allo stato dell'arte di Safilo. È una trattativa estremamente delicata per l'importanza che questa azienda riveste nel panorama internazionale italiano-Veneto. La stiamo seguendo passo passo con l'azienda e con i lavoratori. Vogliamo che la produzione resti e quindi che si mantenga la continuità produttiva, questo l'abbiamo sempre ripetuto, lo ripetiamo ad ogni azienda che ci troviamo di fronte e che sta facendo scelte diverse da quelle che vorremmo e dall'altra tutela occupazionale. È già stato annunciato lunedì 17 nel pomeriggio, noi faremo il primo tavolo del comitato di sorveglianza socio-istituzionale, un'intuizione che noi utilizziamo la prima volta per ACC, per accompagnare tutte le fasi del territorio e non solo quelle di una trattativa aziendale che resta prerogativa delle parti.